Speravo di non fare questo video perché non mi va di parlare di quello che sta succedendo in queste ultime settimane Perché? Perché non è di mia competenza, non mi va di alimentare ulteriore panico Diciamo che non ne avrei motivo e sinceramente ripeto, non è di mia competenza parlare di queste cose Preferisco parlare del calcio, però purtroppo il coronavirus è entrato nel mondo dello sport Nel mondo del calcio, nel mondo della Serie A, del nostro campionato italiano Perché due giocatori sono risultati positivi al coronavirus Stiamo parlando di Rugani che però è asintomatico, cioè non presenta nessun sintomo E quindi questa è la prova lampante del fatto che noi possiamo avere il coronavirus anche senza provare sintomi Quindi è una cosa importante, restare a casa, è proprio per questo, anche se tu non hai niente Resta a casa perché potresti avercelo anche senza saperlo È per questo che ci fanno restare a casa, non solo per questo ovviamente Ma una piccola percentuale va ritagliata anche questo fattore Che possiamo avercelo e non ce ne rendiamo nemmeno conto Perché ok che loro, i giocatori, fanno mille tamponi e quindi sono assicurati Ma noi non siamo assicurati, noi possiamo anche avercelo senza sapere che abbiamo il coronavirus Che abbiamo il virus nel nostro corpo Quindi bisogna essere attenti, bisogna essere attenti Ed è per questo che bisogna restare a casa Ne approfitto per dirvelo, restate a casa ragazzi Se il governo dice così, così bisogna fare, non è che bisogna fare cosà Bisogna fare così, se il governo dice così, così non Se il governo dice così, io faccio cosà E allora là stiamo Poi fanno bene a mettere multe Poi non vi lamentate se vi mettono multe e via dicendo E poi Gabbiadini Gabbiadini che se non sbaglio aveva febbre Poi ha fatto il test ed è risultato positivo al coronavirus Peccato, peccato perché sicuramente è veramente brutto sapere che il virus è entrato anche nel mondo del calcio Vabbè nel calcio in generale c'era anche il presidente del Novara col coronavirus Comunque tantissimi altri giocatori barra presidenti barra allenatori eccetera eccetera Avevano il coronavirus Però non erano così tanto importanti come è importante la Serie A Altra cosa importante è che anche nel mondo fuori dal calcio Il coronavirus è entrato nel mondo dello sport, ad esempio l'NBA E' risultato positivo un giocatore di basket che tra l'altro aveva addirittura fatto Come posso dire Stava toccando i microfoni a fine dell'intervista che fece quattro giorni fa, tre giorni fa Alla fine dell'intervista toccò i microfoni in modo provocatorio Cioè giusto per prendere per il culo questo virus Alla fine se l'è preso lì tre giorni dopo Questo è il karma E per questo tutta l'NBA è stata sospesa fino ad atta da destinarsi Per farvi capire che non dovete fare come questo stupido E dovete prendere determinate precauzioni A me ti piace tantissimo Perugani che è veramente sfigato Sfigato nel senso buono ovviamente Perché ha una sfiga pazzesca questo ragazzo E non riesce a... Le poche partite che gioca purtroppo non riesce a sfruttarle Gioca poco eccetera eccetera E proprio lui se lo va a prendere il coronavirus Questo mi piace tantissimo Perugani E Gabbiadini invece è titolarissimo della Samp E niente l'ha preso anche lui E quindi Juventus in quarantena Inter in quarantena Samp in quarantena Elas in quarantena se non sbaglio Poi altra cosa Anche il Real è in quarantena Ma non so il motivo Non so il motivo però il Real è in quarantena Penso preventiva Penso sia preventiva la quarantena del Real E quindi sono tante sospese Anche le partite di Champions League Juve-Lione e Real City Allora vi ho fatto un po' il recap di tutto Posso anche dirvi tranquillamente Che la Liga la stanno per sospendere Però siamo vicini anche per quanto riguarda gli altri campionati Ligan a porte chiuse si sta giocando Anzi se non so sbaglio la Ligan è stata già rinviata Sospesa Bundesliga a porte chiuse L'unico campionato che non prevede al momento modifiche particolari E la Premier che gioca addirittura se non sbaglio con le porte aperte Però la Bundesliga gioca già con le porte chiuse E ripeto Tra i cinque maggiori campionati europei L'unico campionato che non presenta particolari modifiche è proprio la Premier In Inghilterra penso non sia ancora arrivato il virus Come sta arrivando in tutta Europa Prima è arrivato a noi Poi piano piano sta arrivando anche in Spagna In Francia eccetera eccetera Quindi vi ho fatto ripeto un po' il recap di tutto il coronavirus nel mondo del calcio E fatevi sapere la vostra con un commento Mi raccomando Cosa ne pensate di questa faccenda Se è giusto chiudere i campionati Bla 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 Oppure è meglio dare uno svago Alle persone Secondo me è giusto ragazzi Si doveva fare prima Perché poi vedete che alla fine Rogan ha preso il virus Gabbiadini ha preso il virus Anche se non penso sia legato Al calcio Però comunque Spostandosi è tutto Prima o poi Uno Capita che prende il virus E quindi niente Speriamo che si risolva Il più in fretta possibile Questa questione Anche perché Poi ci sono di mezzo gli europei a giugno E quindi Sarà veramente un problema Gestire un caos del genere Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti